E' molto attiva già da Babbo in questo inizio di partita, è tornata nella sua posizione mediale a sinistra. C'è una marcatura avanzata, un tentativo. Bellissimo sovizio di Pietro, fa controllare la palla e così va nuovamente via il Teramo. Amar tutta sola, non ha difficoltà a piazzare la palla. Di Prisco adesso con il numero 9 al centro dell'azione. La stessa Tannani, Amar, finta. La Princeton è sulla palla. Amar, passi, secondo me questi erano passi, però gli arbitri convalidano il gol di Amar e non solo Cominano. Fortunata la Amar che si vede se l'Antonio con il 44. C'è fallo. Di Prisco, Capone. Di Prisco, Amar. E la Di Prisco questa volta riesce. Giornata di Giada Babbo che vediamo anche abbastanza sconsolata. Questa volta Monica Prinz non riesce. Per Teramo a segno la numero 24, Amar to Teramo. Tosicin di nuovo. Si piazza sulla riga. Amar. Che con... Amar di forza, veramente... Come le solite Capone, Amar. E' il Brixen che riesce ancora. Brutto passaggio. Della Di Pietro. Che insiste nel sinteggio, più o meno, del primo tempo. Amar. Nulla da fare in questo frangente per... Tiro della Capone. Deviato da Andrea Eder. No, è passiva alzata. Ed è fortunata la Amar su questo tiro che viene deviato. Teramo a segno con la numero 24, Amar to Teramo, Tosicin di nuovo. Segni di Pietro. C'è fallo della Mars. Tero della Capone. Tero le Corren. Abbr Charlotte. La Prixen per la produzione di casa su rigore. Lena di Carlo Antonio. Si alza in elevazione Tahani Ammar Per Teramo segna il numero 24 Amarto Teramo, tu sottolinei il nuovo fianco, Anzic Amarto Gliarabà Assegna il Teramo, il segno moleco Grazie